Non è vero che Grillo è sempre stato antisistema, nessuno se lo ricorda ma all'inizio tentava di convincere o costringere il sistema a cambiare. Tutto è cominciato nell'estate del 2007 quando Grillo lancia le primarie programmatiche online e vengono discusse per 8 mesi da 800 mila persone. Poi le proposte raccolte, Grillo va a Palazzo Chigi e le consegna a Prodi, energie rinnovabili, wifi gratis, rifiuti, cemento zero eccetera. Prodi so chiude gli occhi e si appisola, così racconta Grillo. Allora l'8 settembre Grillo organizza il primo V-Day, quello di Bologna, sul Parlamento Pulito per cercare di cambiare le cose con uno strumento squisitamente costituzionale, le leggi di iniziativa popolare. Tre vie condannati dal Parlamento, tetto massimo di due legislature e soprattutto riforma elettorale per tornare a scegliere i parlamentari. 350 mila firme in mezzagiornata, una robetta e infatti quel giorno a Bologna non c'è nemmeno una telecamera e nemmeno un inviato di tutti i TG della RAI, di Mediaset e di La7. C'è solo Sky e hanno zero. È una specie di esorcismo, basta non parlarne e il V-Day non esiste. Quella sera il TG1 di Gianni Riotta si apre con un servizio su Prodi a Bari, uno su Berlusconi chissà dove, tre servizi sui funerali di Pavarotti, poi un'inchiestona sull'inedito fenomeno della prostituzione a Milano, un delitto a Treviso, un videomissaggio di Napolitano sul futuro dell'Europa, la solita carrellata di politici che parlano a Vambera, una imperitura intervista a Rutelli che poteva essere andata in onda tre anni prima o andare in onda anche tre anni dopo. Poi finalmente il sempre sorridente Attilio Romita si incubisce improvvisamente in volto ed è il segnale convenuto. È il momento di parlare del V-Day. C'è un fermo immagine di Grillo e una voce fuoricampo che dice si è svolto a Bologna e in altre città italiane il Vaffa Day del popolare comico genovese. Sullo sfondo un paio di immagini rubate da Eco TV, una piccola televisione che ha trasmesso la diretta, 29 secondi di annuncio in tutto. Poi Romita ritrova finalmente il sorriso per annunciare notizie più ottimistiche tipo i nuovi sviluppi del delitto di Garlasco, un servizio sui rumeni che rubano nei supermercati di Ivrea, altro fatto del giorno, l'analfabetismo di ritorno, non a caso, e poi un altro fatto unico proprio nella storia dell'umanità. Testualmente, sei subacquei sott'acqua a Ponza senza prendere ogni tanto una boccata d'aria, ecco. Sei subacquei sott'acqua. Il Tg1 si chiude con un servizio sull'indimenticabile matrimonio di Marco Baldini, il socio di Fiorello, officiante Veltroni, testimone Fiorello. L'indomani il Tg2 al V-Day, dedica addirittura l'editoriale del direttore Mauro Mazza, intitolato Grillo e Grilletti. Con il volto terreo come se fossero alle porte le Brigate Rosse, Mazza ammonisce Grillo col gesto della pistola e dice Che cosa accadrebbe se un mattino qualcuno, ascoltati gli insulti di Grillo, premesse il grilletto? Qualche ora dopo, perfino Fini, Gianfranco Fini, dice ai giornalisti che l'allarme è un po' eccessivo. Dice adesso chiamo Mazza e glielo dico. E lo chiama. Il Corriere della Sera, dopo la chiamata di Fini, chiama Mazza, pensando di trovarlo sotto il tavolo che si vergogna per la lavata di capo del suo capo. Invece Mazza fa il brillante. Dice che problema c'è? Se si dice che i direttori dei telegiornali siano affiliati a un padrino politico, questa è la prova che non è così. Io sono indipendente. Cioè Fini lo ha chiamato davanti a tutti, trattandolo come un suo dipendente, e lui ha detto, avete visto, sono indipendente. L'indomani sui giornali si scatenano i commentatori e gli esperti, quelli che capiscono sempre tutto, ma non ne hanno mai azzeccata una. Antipolitico, qualunquista, populista, giustizialista, fascista, terrorista e soprattutto volgare, perché dice vaffanculo e non si dice. Montezemolo col ditino alzato commenta a risolvere i problemi dell'Italia con i vaffanculo, non ci credo. Scalfari scomunica il V-Day dicendo che è un fenomeno anarcoide e individualista, anacronistico, antipolitico, paragona a Grillo nell'ordine a Guglielmo Giannini, Colla di Rienzo, Masaniello, Savonarola. E poi dice Chi neggia il vaffanculo partecipa consapevolmente a quelle invasioni barbariche che connotano gran parte della nostra mediocre e inselvaggita attualità. Mi viene la pelle d'oca, dietro al grillismo vedo l'ombra del law and order nei suoi aspetti più ripugnanti. Ci vedo dietro la dittatura. Con slogan della peggiore destra, quella populista, demagogica, qualunquista, l'antipolitica è sempre servita a fare piazza pulita per il futuro dittatore. Panza dice addirittura che Grillo gli ricorda Mussolini. Riotta rimedia al buco che ha preso al Tg1 di quella sera con uno speciale Tg1 dedicato a Grillo dove annuncia subito minaccioso e adesso vediamo chi è davvero Grillo perché si deve sapere che non esistono vergini e lancia un servizio che è un grande scoop. Pare, questa è la scoperta, che Grillo nell'81 invitato a esibirsi da comico a una festa dell'unità abbia preteso addirittura che gli pagassero il cachet. è una cosa gravissima. Intanto le tre leggi di iniziativa popolare vengono subito imboscate in un cassetto del Senato dove riposeranno in pace per sempre. Il 25 aprile del 2008, secondo V-Day, stavolta a Torino, dedicato all'informazione. Gli attacchi stavolta partono addirittura prima che si tenga il V-Day. Il riformista, alla memoria ne parliamo, già sa che quella del V-Day sarà una manifestazione terroristica con minacce in stile BR ai giornalisti servi. Il titolo dell'articolo è Le grillate rosse. Il giornale, sguinzaglia un segugio noto per le sue mesh, che fa un'inchiestona in quattro puntate dal titolo La vera vita di Grillo e anche lui scopre delle cose sensazionali. Da giovane Grillo andava a letto con delle ragazze, cosa già piuttosto grave. Alcuni suoi ex amici invidiosi parlano male di lui. La sua villa a Genova consuma energia, questo è molto importante. Un incidente stradale gli è costato una condanna per omicidio colposo e stava anche per costargli la pelle. È genovese, quindi tirchio. Nel suo orto c'è una melanzana di plastica, per dire il personaggio, no? E quando fa spettacoli a pagamento, altro scoop, simile a quello del TG1, pretende proprio che gli paghino il cachet. Insomma è un delinquente. In piazza a Torino quella volta ci sono altre 100 mila persone e poi ci sono circa due milioni di persone collegate in alcune decine di piazze in giro per l'Italia e per l'Europa. Tutti brigatisti che però non sparano, firmano 500 mila firme su tre referendum, abolizione dell'ordine dei giornalisti, della legge Gasparri e dei finanziamenti pubblici ai giornali. L'inviato del giornale Damascelli, proprio quel giorno in cui Berlusconi aveva ricevuto il camerato a Ciarrapico, paragona Grillo a Mussolini e lo chiama Benito. Su Repubblica Francesco Merlo, che abita a Parigi ma ha un cannocchiale, un telescopio potentissimo, vede tutto anche in Italia, spiega agli italiani che in Italia c'è una sovrapproduzione di informazione, cioè ce ne vorrebbe un po' meno di informazione in Italia. Quanto a Grillo, scrive Merlo, è in crisi e non riesce a far ridere. A Zapping, la celebre trasmissione di Radio Rai, un ragazzo che ha firmato il referendum del V-Day, telefona tutto entusiasta per raccontare. Il conduttore, che è un sincero democratico, lo accoglie con grande affetto. Gli dice, ah, lei è uno di quegli all'occhi che stanno a sentire le cretinate di Grillo, ma lo sa che quello guadagna 4 milioni da quando fa queste contestazioni? Peccato che i 4 milioni pubblicati dai giornali fossero il reddito di due anni prima del V-Day. Per Scalfari, però anche Scalfari, giorno dopo scrive che la piazza di Torino era piena di seguaci di Grillo paganti. Falso, naturalmente, l'accesso alla piazza era assolutamente libero. Per Scalfari, Grillo dissoda il terreno dove Berlusconi seminerà. Infatti si è visto l'altro giorno il trionfo proprio del Cavaliere. Cioè lavora per la destra, come se a questa incombenza non bastasse il centro-sinistra. Sergio Romano, sul Corriere della Sera, parla di carnevale plebeo e volgare, sentimenti beceri e forcaioli e poi si lancia in una previsione, anche questa si rivelerà azzeccatissima. L'irresistibile ascesa del comico politico dura generalmente qualche mese o pochi anni, poi si spegne quando il pubblico si stanca di ascoltare sempre le stesse battute o si accorge che nessuna soluzione politica potrà mai venire dal mondo dell'avanspettacolo. Accadrà anche nel caso di Grillo. Allora nel 2009 Grillo, per fargli ridere un altro po', fa eleggere alle europee due candidati indipendenti in Italia dei Valori, De Magistris e Sonia Alfano. E poi fa l'ultimo tentativo per cambiare dall'interno il sistema. Si candida alle primarie del PD, dopo Veltroni e Franceschini. Ma lì era già deciso che doveva vincere Bersani, i disturbatori fuori. Infatti il PD risponde che Grillo non può partecipare perché non è iscritto al PD. Allora Grillo dice, perfetto, faccio domanda di iscrizione. Ma gliela respingono. Cioè mentre si scoprono migliaia di tessere fasulle e Parisi addirittura denunciava che il congresso era falso, uno che si voleva iscrivere per davvero lo tengono fuori dalla porta. La commissione di garanzia del PD emette la sentenza. Non è possibile la registrazione di Grillo Giuseppe all'anagrafe del PD perché si riconosce in un movimento politico ostile al PD. Ma è strano perché lo statuto del PD vieta l'iscrizione solo a chi è iscritto ad altri partiti mentre Grillo non ha tessere di altri partiti. Infatti Grillo replica, io ostile, forse al vertice del partito, non agli elettori. Ma le primarie non dovrebbero servire proprio a leggere il vertice del partito? E infatti mi candido e poi lancia un ultimo appello al PD. Dice, se non volete me prendetevi almeno il nostro programma. Non potete continuare ad avere lo stesso programma di Berlusconi. Niente, risposta, encefalogramma, piatto. E così nel 2010 esordiscono le liste 5 stelle alle amministrative in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Campania. Prendono 400 mila voti, in Piemonte sfiorano il 4%, in Emilia il 7%. I partiti fanno tanto di occhi, dicono chi l'avrebbe mai detto. Il PDL riesce a perdere un milione di voti sulle regionali di 5 anni prima. Una sconfitta clamorosa, ma mascherata da quella del PD, che di voti riesce a perdere addirittura 2 mila. E se la prende con Grillo, che ne ha presi solo 400 mila, dicendo che è il suo fuoco amico che gli ha fatto perdere le elezioni. Soprattutto in Piemonte, dove il leghista Cota ha battuto di misura Mercedes Bresso. La Mercedes Bresso dice, Grillo non l'avevamo calcolato, però ci ha fatto perdere le elezioni. E lui risponde, no, è la Bresso che ci ha tolto un sacco di voti, se non si candidava lei, vincevamo noi. Il fatto è che il programma della Bresso e quello di Cota si assomigliavano parecchio, soprattutto su una questione cruciale in Piemonte, il TAV Torino-Lione. Poi i grillini in Piemonte hanno preso 100 mila voti, mentre la Bresso ne ha persi 200 mila. Quindi senza Grillo poi quella gente non sarebbe andata a votare, naturalmente. Ma neanche quella lezione aiuta i partiti a svegliarsi. Infatti ancora fino all'altro ieri lo insultavano e basta. Napolitano lo chiamava il demagogo di turno. Crosetto, amico di Tremonti, del PDL, dice Grillo mi ricorda i fascisti, anzi i nazisti, alla violenza verbale di Goebbels. Parliamo di un fascio comunista. Bersani, basta con questi populismi che fanno finta di partire da sinistra e poi come sempre spuntano a destra. Vendola, Grillo mescola argomenti demagogici, urla e mette gruniti al posto di pensieri. E tutti insieme Grillo parla come i mafiosi. Risultato, 5 Stelle diventa in alcuni posti il terzo, in alcuni posti il quarto partito d'Italia, tutti attoniti per la sorpresa Grillo. Dopo cinque anni ancora sono sorpresi. Tranne Napolitano che del boom di Grillo non se ne è anche accorto. Dice, io l'unico boom che mi ricordo è quello degli anni Sessanta. Il suo problema è quello dei politici, è proprio che i candidati e gli elettori di Grillo il boom economico non se lo possono ricordare perché negli anni Sessanta non erano proprio nati. E comunque chi non sente il boom può sempre provare con un cornetto acustico. Marco, una piccola precisazione da fare. Paolo Del Brocco, capo di Rai Cinema, che la settimana scorsa ho citato come vicino a Berlusconi, tiene a precisare che non è vicino a Berlusconi. Bene, grazie.